Abbiamo Porto Impedocle vicino, no? Vicino all'Agrigento. Sono sbarcati gli americani. Si dice, come gli ho due che sono? Vanno sbarcare gli americani. Allora, questi venuti ad Agrigento, sono saliti ad Agrigento e hanno visto una ragazza molto bella che si chiamava Mima. Mimo sapete che è Domenica, no? Hanno visto che era molto bella, se la sono presa e se la sono portata sulla nave. Questa ragazza, prima di succedergli questo fatto che gli americani se la portassero sulla nave, faceva spasimare tutto il quartiere, cioè tutti i ragazzi del quartiere la volevano ma lei non li degnava di uno sguardo, era una ragazza molto seria, molto pulita. Allora, questi americani la pigliano e la portano sulla nave. Dopo tre giorni di vita di mare che ha fatto con gli americani, cacchigge, non arrivava nuigge, non riusciva più erba, e la riportarono poi nel suo quartiere. Ma da quel momento in poi non va più a spasimare a nessuno e chi la vuole la deve pagare. Questo è tutto il riassunto della canzone. Il titolo del brano è Etta Rari. Etta Rari, Etta Rari, Etta Rari, Etta Rari, Etta Rari, Etta Rari, Vecce a Vincenza c'è da Ticà. La storia punta a Cami, ma era peggia, e tutti spasimavano l'Ultà, e tutti spasimavano l'Ultà, e tutti spasimavano l'Ultà, appena i americani l'izzadaliaron, già sopra l'Ultà la nave si la portaron. Etta Rari, Etta Rari, Etta Rari, e quand un mondo cami in conda, E tararì, e tararà, e c'è Vicenza trent'anni fa. Dopo un giorno di vita di mari, la rifiutare un'ile suoi quartieri, che cadra in un giocchio fa spazio i mari, che cadra in un giocchio fa spazio i mari. E tararì, e tararà, e c'è Vicenza trent'anni fa. E tararì, e tararà, e c'è Vicenza trent'anni fa. E tararì, e tararà, e c'è Vicenza trent'anni fa. Grazie.